e questo nonostante un preciso suggerimento di Franco Baresi dopo appena 8 minuti abbia mandato Gullit in gol, un gol che deve aver fatto credere a molti minanisti di avere ormai la partita in Sinchè il Bologna è pervenuto al pareggio grazie proprio al marcatore di Gullit, Biondo, lesto a inrompere sui pazzagli la palla è finita a Turchi-Maz per il suo terzo scelto Il centroavanti della nazionale svizzera e del Servet è stato accolto con un po' di scetticismo dal campionato italiano. Turchi-Maz, oggi hai giocato meglio di Van Basten? No, non è vero, io sono solo riuscito a fare il gol e lui, sua sfortuna no, meglio di Van Basten non direi Sei alla terza rete stagionale, con i tuoi gol riuscirai a salvare Bologna? No, sono contento che questi tre gol sono valsi a tre punti e adesso speriamo di trovare una vittoria con il mio gol Grazie Grazie.